Benvenuti al secondo incontro in preparazione del festival dantesco, sono la maestra Francesca e sarò sempre in contatto con le vostre insegnanti per rispondere ad ogni domanda o curiosità vi possa venire dopo questo incontro di spiegazione del canto che avremmo dovuto fare in classe ma che siamo costretti a fare con questa modalità video. Allora parliamo del canto terzo, il canto terzo dell'inferno, vi ricordate che la guida di Dante e il suo maestro che lo accompagna in questo viaggio nell'inferno e nel purgatorio è Virgilio e qui appunto arrivano insieme davanti alla porta dell'inferno e leggono la scritta che è scritta sopra voi prendete il testo che ho inviato alle vostre insegnanti tramite mail che vi avrebbero dovuto girare e seguiamo insieme appunto il testo e facciamo la parafrasi cioè la spiegazione di questo racconto meraviglioso per me si va nella città dolente per me si va nell'eterno dolore per me si va tra la perduta gente giustizia mosse il mio alto fattore fecimi la divina podestate la somma sapienza e il primo amore dinanzi a me non fuor cose create se non eterne e io eterno duro lasciato ogni speranza voi che entrate allora Dante e Virgilio leggono la frase scritta incisa sulla porta che dà inizio appunto all'inferno e dice per me si va nella città dolente cioè attraverso di me per me vuol dire proprio passare attraverso di me dopo che mi avete attraversato siete nella città dolente cioè la città del dolore attraverso di me si va nel dolore eterno attraverso di me si va tra la perduta gente cioè tra le anime perdute tra i dannati tra quelli che non hanno più speranza la giustizia ha fatto agire il mio alto fattore cioè il mio alto creatore cioè dio e mi ha costruito chi? chi ha costruito questa porta? la potestà divina cioè il padre la somma sapienza il figlio e il primo amore cioè lo spirito santo quindi la trinità ha fatto sì che io esistessi dinanzi a me cioè dinanzi vuol dire innanzi cioè una cosa che viene innanzi cioè che viene prima cioè prima di me non fuor cose create se non eterne non fu creato nulla se non eterno e io durerò eternamente lasciate ogni speranza voi che entrate cioè pensate a dante che legge delle parole del genere cioè provate a pensare a che cosa può provare ha una paura terribile ma per fortuna vicino a Virgilio che lo accompagna andiamo avanti a leggere verso 10 queste parole di colore oscuro vi dio scritta al sommo d'una porta perché io maestro il senso l'orme è duro ed egli a me come persona accorta qui si conviene lasciare ogni sospetto ogni viltà conviene che qui sia morta noi siamo venuti all'oco o vito detto che tu vedrai le genti dolorose che han perduto il ben dell'intelletto Dante vede appunto queste parole scritte con colore oscuro in cima a una porta il sommo di una porta vuol dire proprio lo stipite in cima alla porta per cui dice chiede a Virgilio maestro io non ne capisco il senso ed egli gli risponde come persona accorta cioè che lo ha a cuore qui è necessario abbandonare ogni esitazione non bisogna essere vili noi siamo venuti al luogo dove ti ho detto te l'ho già spiegato prima Dante dice Virgilio vedrai le anime del nate che hanno perduto il ben dell'intelletto cioè la luce di Dio la luce dell'intelletto divino cioè l'estrema la suprema intelligenza che è appunto la luce di Dio e poi che la sua mano alla mia pose col lieto volto on Dio mi confortai mi mise dentro alle segrete cose e qui è bellissimo perché Virgilio vede che Dante ha paura e allora che cosa fa? lo prende per mano un po' come come fa la mamma come fa la maestra quando avete paura e vi prende per mano e vi dice coraggio so che ce la puoi fare io sono vicino a te camminerò accanto a te non ti lascerò solo e dopo che l'ebbre è preso per mano col volto sorridente dove appunto dice Dante on Dio mi confortai quindi lui si conforta nel vedere appunto il volto sorridente di Virgilio e che lo tiene per mano mi fece entrare in quel luogo separato dal mondo dei vivi cioè comincia l'inferno entra all'inferno qui vi sospiri pianti e alti guai risuonavano per l'aere senza stelle per chi al cominciarne lagrimai e qui cosa sente quando entra nell'inferno sospiri pianti alti lamenti risuonavano in quell'area priva di stelle c'era tutto buio in quel modo che in un modo così angosciante tant'è che Dante comincia a piangere perché voi pensate provate a entrare in una stanza totalmente buia dove non si vede niente e sentite pianti lamenti sospiri Dante si spaventa come poi ci spaventeremo un po' tutti e comincia a piangere e comincia a sentire andiamo avanti nel verso 25 diverse lingue orribili favelle parole di dolore accenti di ira voci alte fioche suon di manconelle facevano un tumulto il quale s'aggira sempre in quell'aura senza tempo tinta come l'arena quando turbo spira e sente lingue strane pronunce orribili parole di dolore imprecazioni di ira cioè imprecazioni inarrabbiate voci acute flebili e suon di manconesse e c'era un frastuono che rimbombava sempre in questa in quest'area in questo luogo scuro come la sabbia quando soffia con la tempesta cioè voi pensate come quando c'è una tempesta di sabbia ma nello scuro che non vedete niente no? questo coi lamenti insomma Dante ha una tremarella io cavado error la testa cinta dissi maestro che è quel chiodo e che gente è che par nel duol si vinta e e Dante dice io che avevo error la testa cinta io avevo la testa piena piena di dubbi piena di domande e dissi maestro ma che cos'è questo che sento chi sono costoro che sembrano così sopraffatti dal dolore ed elli a me questo misero modo tegnò l'anime triste di coloro che visser senza infamia e senza lodo mischiate sono a quel cattivo coro degli angeli che non furri belli né fur fedeli a Dio ma per sé fuoro e lui mi risponde questa Dante è la misera condizione cioè il misero modo la modalità misera che tengono quelle anime tristi di quelli che vissero senza infamia cioè senza senza essere denigrati ma neanche senza meriti cioè questi sono bambini gli ignavi cioè quelli che in vita non hanno mai scelto non hanno mai preso una posizione né nel bene né nel male si sono un po' lasciati vivere no? hanno sono sempre lasciati scegliere dagli altri non hanno mai preso una decisione e dice sono mescolate a quel cattivo coro degli angeli cioè a quell'insieme di angeli che non si ribellarono a Dio e neanche gli rimasero fedeli allora questo si riferisce vi ricordate quando vi ho raccontato che Lucifero quando abbiamo guardato il disegno dell'inferno dell'imbuto dell'inferno che abbiamo detto perché Lucifero era proprio nella parte più in basso e vi ho raccontato la storia di Lucifero che era stato cacciato da Dio perché superbo e lui l'aveva cacciato e l'aveva relegato nel luogo più basso e lontano da lui ecco quando ci fu questa litigata per cui Dio cacciò Lucifero ci furono degli angeli che non presero le parti di nessuno né di Lucifero e nemmeno di Dio ecco gli ignavi sono così che non riescono a dire cos'è per loro giusto o sbagliato a prendere nessuna decisione e dice loro sono mescolate a proprio quel coro di angeli quel gruppo di angeli che non si ribellarono a Dio ma nemmeno gli rimasero fedeli ma furono neutrali caccia l'incel per non essere men belli nello profondo inferno li riceve calcuna gloria i rei avrebbero dell'i cioè vuol dire i cieli li cacciano li cacciano per non perdere la loro bellezza ma nemmeno l'inferno li vuole perché dice non siete neanche dannati non siete stati neanche dalla parte del male né dalla parte del bene né dalla parte del male e per cui neanche i dannati li vogliono perché non hanno neanche alcuna gloria della loro presenza e io andiamo avanti siamo nel verso 43 bella è questa storia e io mettiamo cosa dice Dante maestro che è tanto greve allora che lamentarli fassi forte rispose dicerolti molto breve questi non hanno speranza di morte e la loro cieca vita è tanto bassa che invidiose sono d'ogni altra sorte fama di loro il mondo esser non lassa misericordia e giustizia li sdegna non ragionanti loro ma guarda e passa spieghiamo e Dante allora dice maestro ma che cos'è tanto fastidioso che li fa lamentare così forte e Dante dice e Virgilio dice ma gli risponde Dante te lo dirò molto brevemente perché non vale neanche la pena parlarne di questi qui non hanno importanza te lo dirò molto brevemente queste anime non possono sperare di morire per la loro attuale condizione è tanto tanto spregievole che invidiano qualunque altra sorte anche quella dei dannati fama di loro il mondo esser non lassa cioè il mondo non lascia che ci sia non hanno al mondo nessun ricordo la misericordia e la giustizia li sdegna anche la misericordia e la giustizia li sdegna cioè non li considera non ragioniamo di loro ma guarda e passa cioè non perdiamo tempo a parlare di loro da un'occhiatina e poi passa oltre siamo nel verso 52 e io che riguardai vidi mi insegna che girando correva tanto ratta che d'ogni posa mi pare indegna e dietro le venia si lunga tratta di gente che io non avrei creduto che morte tanta ne avesse disfatta cosa succede? allora Dante quando Virgilio dice così lui dà un'occhiatina e dice io che riguardai che quindi ci guardai un'altra volta vedi un'insegna che girando girava sempre su se stessa molto rapidamente sembrava che non dovesse fermarsi mai e dietro veniva dietro questa insegna una fila lunga di gente di anime una fila lunghissima tanto lunga che non avrei creduto mai che fossero morte così tante persone andiamo avanti col verso 58 poscia che io vebbi alcun riconosciuto vidi e conobbi l'ombra di colui che fece per viltà del gran rifiuto incontanente intesi e certo fui che questa era la setta di cattivi a dio spiacenti e a nemici sui allora lui guarda bene e gli sembra di vedere di riconoscere qualcuno tra loro cioè riconosce l'ombra di qualcuno che 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 ha fatto dice del viltà del gran rifiuto poscia che io vebbe alcun riconosciuto vidi e conobbi l'ombra di colui che fece per viltà del gran rifiuto cioè che per viltà fece un grande rifiuto cioè qui si riferisce al papa celestino quinto questo perché colui che era un papa che per vigliaccheria cioè per paura aveva ceduto per non prendere decisioni la carica papale lasciando il suo posto a Bonifacio VIII che è proprio secondo Dante il responsabile della disgrazia di Firenze del suo esilio e di tutto quello che poi sappiamo dalla vita di Dante che vi ho raccontato e e quindi lui lo mette proprio quando scrive l'inferno lo mette proprio tra gli ignavi cioè tra quelli che non hanno mai voluto scegliere una cosa bruttissima andiamo avanti qui nel verso 61 quando dice allora quando lo vidi intesi cioè capì all'istante fui certo che quella ho capito che era la schiera di quelli vili di quelli che mi diceva Virgilio degli ignavi che non piacevano né a Dio ma neanche ai diavoli cioè non erano voluti né in paradiso e nemmeno all'inferno e quindi stavano lì a correre dietro a questa insegna che girava velocemente loro che non avevano mai preso una posizione nella vita non avevano mai avuto un ideale a cui correre dietro sono destinati per tutta l'eternità a correre dietro a un obiettivo che è quello di questa insegna che gira 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 velocemente loro corrono ma non basta andiamo avanti a vedere com'è questa pena questi sciagurati questi sciaurati che mai non fur vivi erano ignuti e stimolati molto da mosconi e da vespe che erano nivi cioè non solo dovevano correre 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 dietro questa insegna che girava velocissima ma questi sciagurati cioè che mai non fur vivi cioè che non vissero mai come abbiamo detto che non vissero mai veramente erano nudi e punti continuamente da mosconi e da vespe cioè non solo correvano dietro ma erano oltre questo nudi e punzecchiati sempre da mosconi e da vespe tutto attorno e le rigavan lor di sangue il volto che mischiato di lacrime a lor piedi da fastidiosi vermi era ricolto e queste mosconi e queste vespe facevano sanguinare lor il volto che cadeva a terra questo sangue e si mischiava le lacrime ed era raccolto da dei vermi ripugnanti a terra mamma mia e poi che a riguardare oltre mi diedi vide gente alla riva d'un gran fiume perché io dissi maestro or mi concedi che io sappia quali sono e qual costume le fa di trapassar parersi pronte come io discerno per lo fiocolume allora e poi spinge Dante lo sguardo oltre riguardare oltre mi diedi cioè mi spinsi lo sguardo oltre vidi delle delle genti delle anime sulla sponda di un gran fiume allora Dante chiede subito a Virgilio vedete quanto è curioso Dante dice maestro mi concedi ora di sapere chi sono quelle anime e quale quale istinto quale cosa le fa sembrare così ansiosi di passare dall'altra parte di quel fiume proprio come mi sembra di vedere in questa poca luce perché abbiamo detto che era molto buio eh c'era un lume fioco fioco lume ed è lì a me e vediamo cosa risponde Virgilio a Dante le cose ti fierconte quando noi ferremmenli i nostri passi sulla trista riviera d'Acheronte Dante chiede tantissime cose a Virgilio e Virgilio qui un po' lo sgrida gli dice uè Dante non è che vuoi sapere tutto subito dice le cose ti saranno chiare quando noi giungeremo sulla triste sponda del fiume Acheronte che abbiamo detto che è il fiume che da dove comincia appunto l'inferno il fiume infernale all'orco gli occhi vergognosi e bassi temendono il mio dirgli fosse grave infine al fiume dal parlarmi trassi allora Dante dopo che è stato un po' sgridato da Virgilio abbassa gli occhi un po' vergognosi e nel timore che potesse dargli ancora fastidio nel parlargli ancora non pronuncio una parola fino ad arrivare al fiume attenzione bambini che sono arrivati al fiume siamo nel verso 82 ed ecco verso noi venir per nave un vecchio bianco per antico pelo gridando guai a voi anime brave non ispirate mai vederlo cielo i vegno per menarvi in altra riva nelle tenebre eterne in caldo e in gelo e tu che se costi anima viva partiti da cotesti che son morti e chi è bambini ed ecco sono giunti che un vecchio dal volto su una nave venire per nave attenzione guardate bene le parole viene verso di noi per nave dice su una nave un vecchio bianco per antico pelo con il volto coperto di una barba bianca su una barca e comincia a gridare guai a voi anime malvage non sperate di poter vedere mai il cielo io vengo per condurvi all'altra riva cioè nell'altra sponda del fiume nelle tenebre eterne tra il caldo e il gelo cioè tra le fiamme il ghiaccio e poi guarda Dante e vede che Dante cioè non è un dannato vede che Dante è vivo e dice tu 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 che sei costi anima viva tu che sei che sei lì che sei vivo che sei un'anima viva partiti cioè allontanati da costoro che sono morti e poi andiamo nel verso 90 ma poi che vide che io non mi partiva disse ma perché poi vide che io non me ne andavo non mi partivo disse per altra via per altri porti verrai a piaggia non qui per passare più leve legno convien che ti porti e allora vide che io Dante non se ne andava e questo vecchio disse tu tu giungerai per un'altra via per altri porti non certo puoi passare di qua è stabilito dall'aldilà ci porterà un'altra nave una nave più leggera della mia perché questo signore qui bambini questo vecchio di cui adesso se trovo l'immagine ve la faccio anche vedere guardate bene non so se si vede ecco così meglio avete visto la barba bianca è su una nave e allora chi porterà in questa nave c'è qualcuno steso abbiamo visto questo signore si chiama Caronte Caronte è un traghettatore il suo compito è di portare le anime dall'altra sponda da una sponda all'altra del fiume a Caronte cioè per portarle all'inferno quindi lui le carica e poi le lascia proprio nei gironi infernali quindi all'ingresso dell'inferno vediamo un po' cosa risponde Virgilio siamo nel verso 94 e il duca lui Caron non ti crucciare vuorsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare allora Virgilio che vede che Caronte si è arrabbiato così gli dice Caronte non ti agitare non ti angustiare si vuole così da lassù questo è un ordine che viene dal cielo un ordine divino di portare Dante a visitare l'inferno anche se è vivo è un ordine che viene dall'assù cioè viene dal cielo dove è possibile tutto ciò che si vuole quindi non dimandare altro cioè non domandare altro non dire altro 97 quinci fuor quiete le lanose gote al nocchier della livida palude che intorno agli occhi avea di fiamme rote ma quell'anime che l'allasse nude cangiar colore dibattero i denti ratto che inteser le parole crude allora davanti a quello che dice Virgilio le le lanose gote cioè il viso le guance coperte le lanose perché erano coperte dalla barba avete visto l'immagine del traghettatore che si chiamava Caronte ricordiamocelo di quella sozza palude si placarono si quietarono aveva come aveva gli occhi leggiamo bene gli occhi avea di fiamme rote cioè intorno agli occhi erano circondati da come delle ruote di fiamme quindi voi pensate un po' già insomma aveva gli occhi così urlava e diceva quelle cose alle anime dei dannati e quindi pensa un po' quell'anime cosa dice che era l'asse nude cangiare colore e dibattero i denti ratto che intesero le parole crude ma quell'anime che erano nude prostrate cambiarono colore diventarono tutte piene di paura tanto che battevano i denti dalla paura appena udirono quelle parole crude cioè quelle parole così crudeli che bestemmiavano Dio e lor parenti l'umana spessie e il loco e il tempo e il seme di lor semenza e di lor nascimenti poi si ritrasser tutte quante insieme forte piangendo alla riva malvagia che attende ciascun uomo che Dio non teme allora loro erano lì che battevano i denti avevano una gran paura e cominciarono a imprecare Dio i loro genitori la specie umana il luogo il momento in cui erano stati concepiti anche la loro nascita e poi tutte quante insieme si ritrassero cioè si portarono piangendo dispelati alla sponda del fiume infernale che attende ciascun uomo che Dio non teme cioè ciascun uomo che è lontano da Dio dice Dante 109 Caron di Monio con occhi di braggia loro accennando tutte le raccoglie batte col remo qualunque sadagia e Caronte cosa fa con gli occhi di braccia cioè di fiammeggianti proprio come la braccia fa loro dei cenni le raccoglie tutte batte col remo chiunque di queste anime si voglia stendere sul fondo della barca o ad agiare e quindi insomma fa veramente paura un po' questo Caronte eh andiamo al verso 112 come d'autunno si levano le foglie l'una presso dell'altra finché il ramo veda la terra tutte le sue spoglie similemente il malseme d'Adamo gittasi di quel lito ad una ad una per cenni come o gel per suo richiamo allora Dante qui fa un paragone molto bello un paragone perché c'è il come una similitudine dice come d'autunno cadono le foglie una dopo l'altra presso vuol dire una dopo l'altra finché il ramo vede a terra tutte le sue spoglie cioè tutte le sue vesti allo stesso modo la cattiva discendenza di Adamo cioè i dannati si gettavano da quella riva uno dopo l'altro uno ad uno rispondendo proprio ai cenni di Caronte come un uccello risponde al richiamo verso 118 così se invanno su per l'onda bruna e avanti che sien di la discese anche di qua nuova schiera sa una cioè dice così vanno lungo le acque scure del fiume e prima che siano scese dall'altra parte prima che siano scese nell'altra sponda si è già accalcato un'altra schiera di anime cioè non c'è fine appena lui le lascia sull'altra sponda dalla prima sponda c'è già un'altra calca di schiere di anime verso 121 figlio al mio disse il maestro cortese quelli che muoio nell'ira di dio tutti convegnon qui da ogni paese e pronti sono a trapassarlo rio che la divina giustizia li sprona sì che la tema si volve in disio e qui prende la parola Virgilio dice figlio mio vedete come è amorevole Virgilio è proprio come un come un un padre come una maestra e dice proprio figlio al mio perché vede che Dante è un po' spaventato da quello che vede e quindi lo chiama figlio proprio perché egli vuole bene e lo accompagna in questo viaggio tutti quelli gli spiega tutti quelli che muoiono nell'ira di dio cioè lontani da dio in questa disgrazia si radunano qui da ogni paese cioè da ogni parte del mondo e sono ansiosi di passare l'orio cioè il fiume perché la giustizia di dio li sprona fa sì fa in modo tale che il timore che loro hanno si trasformi in desiderio di giustizia quindi anche se sanno che saranno condannati hanno un po' la voglia di passare e sono ansiosi di passare dall'altra parte del fiume verso 127 quinci non passa mai anima buona verso 127 quinci non passa mai anima buona e però se carondite si lagna ben puoi sapere o mai che il suo dir suona quindi dice qui non passa mai nessun' anima che sia buona quindi se caronte si lamenta di te ormai dante hai capito perché perché tu sei destinata alla salvezza finito questo la buia campagna tremosi forte che dello spavento la mente di sudore ancor mi bagna alla fine di tutto questo quei luoghi così oscuri tremarono così forte venne un grandissimo terremoto che dalla paura dante al solo ricordo di quella situazione si bagna di sudore la terra lagrimosa diede vento che balenò una ruce vermiglia la qual mi vinse ciascun sentimento e caddi come l'uomo cui sonno piglia quindi dopo il terremoto questa terra produsse un vento fortissimo che fece lampeggiare di una luce rossastra che e dante proprio viene sopraffatto da tutte queste cose quindi dal il terremoto il vento il i lampi e dante dalla gran paura sviene proprio dice cade come un uomo addormentato cioè svenuto dalla paura siamo arrivati alla fine del nostro canto terzo dell'inferno io spero di vedervi presto per recitare insieme appunto il nostro canto e portarlo tutti insieme al festival dantesco e per qualunque cosa qualunque domanda rivolgetevi alla vostra maestra che poi me lo fa sapere io sarò lieta di darvi tutte le risposte che posso vi abbraccio tutti e vi mando un bacio e vi mando qui vi mando vi mando vi mando a vi mando a